Sì, arriviamo! Mamma, voglio stare vicino a papà. Sempre così, sempre così. Basta guardiamo! E dai, fammi fare un giro anche a me. Eh no, papà ha detto che finché non ti impari l'alfabeto non te ne fai fare i giri. Eh uffa! Ma aspettami, è qua! Papà, me la compri la bicicletta? Perché a Michele l'hai comprata? Ti sei imparato l'alfabeto? Ma io lo sai che a scuola non ci voglio andare. E allora niente bicicletta. Papà, ma allora me la compri questa bicicletta? Ti ho già detto prima di noi, hai imparato l'alfabeto? Ma con questa storia? Ma io lo ho l'alfabeto, non lo voglio imparare. E allora niente bicicletta. Papà, papà, allora me la compri questa bicicletta? Te l'ho detto già due volte prima, hai imparato l'alfabeto? Sì, sì. E allora sentiamolo da caldo. A-B-C-C-L-E-T-A Ma dai Michele, fammi fare un giro anche a me. No, papà ha detto che finché non mi imparare l'alfabeto non ne vado a fare chi. Ma dai. Aspettami, scendi. No, no, no. Aspettami, vai. Vai. Ernesto. Sorridi. Sorridi. Fai, dici formaggio. Formaggio. Via. Mi aspettami, vai. Si dipartire. Vorrei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.